Partiamo da Ariccia. Ariccia è una bella cittadina sui laghi del Lazio. Il Papa si è recato là con un bel gruppo di suoi collaboratori per fare il corso di esercizi spirituali all'inizio della Quaresima. Come a dire il Papa, prende tutti i suoi collaboratori e gli dice ragazzi fermiamoci un momentino, andiamo a pregare un po'. Un tempo questi esercizi spirituali si facevano in casa all'interno del Vaticano stesso e il buon Papa Francesco dice no, usciamo un tantino, dai dal solito giro, dalle solite cose, mettiamoci un pochettino in pace davanti al Signore e ascoltiamo qualche buona parola. Siamo entrati anche noi in Quaresima e nelle nostre valli, nelle nostre parrocchie alcuni fanno delle specie di esercizi spirituali ovviamente a misura della possibilità parrocchiale, da altre parti fanno dei tridui dei morti all'inizio della Quaresima o a metà, da altre parti fanno le quarantore. In fondo direi sono tutte occasioni un po' simili a quella sosta che il Papa ha voluto fare insieme con i suoi collaboratori ad Ariccia. Credo Don Riccardo, anche nelle tue parrocchie qualcosa di simile, ma ci sta bene ecco, cioè valorizziamo il senso della Quaresima, tempo di silenzio, di ascolto della parola di Dio, tempo di maggior preghiera eccetera, proprio attraverso queste forme che in fondo ci vengono dalla tradizione e dalla storia, ma che penso possiamo ancora valorizzare bene anche in questo nostro tempo. L'ha ricordato anche il Vangelo che abbiamo ascoltato all'inizio della Quaresima, è sempre quello, il mercoledì del Ceneri, il Vangelo. Gesù che ricorda quelli che sono i segni tradizionali che accompagnano i tempi penitenziali della vita o anche dell'anno liturgico, che sono sempre la preghiera, che sono il digiuno e quindi un po' l'atteggiamento penitenziale. La preghiera, il digiuno e l'elemosina come capacità di carità. Ecco, giustamente buona cosa il Papa che prende i suoi collaboratori e va a fare gli esercizi e va anche al di fuori, così ci si tira fuori anche dall'ambiente lavorativo di vita normale, proprio perché sia un tempo ancora più pieno. Benvengano allora queste occasioni che abbiamo anche nelle nostre parrocchie, vecchie o nuove che siano, anche se sono degli appuntamenti tradizionali, mirano sempre alla preghiera, all'ascolto della parola di Dio, che poi può fare nuova la nostra vita. Quindi anche se è un appuntamento, se vogliamo che ci venga dalla tradizione, è sempre in virtù di fare poi qualche cosa di nuovo nella nostra vita e nella nostra esperienza. Ecco, messa questa bella nota che ci riporta un po' ad alcune tradizioni che tengono tuttora nelle nostre comunità, pensiamo un pochettino, la nostra rubrica non ha l'abitudine in genere di seguire il Vangelo della Domenica, eccetera, lo trovate in altri luoghi e in altre forme, però siamo dentro la Quaresima, è giusto che guardiamo un po' anche al percorso che siamo chiamati a fare, alla luce anche delle liturgie di queste Domeniche Quaresimali, anche perché quello di quest'anno, anno A, come viene chiamato un po' banalmente, è un percorso che ci riporta un po' alla fonte, ci riporta un po' al nostro battesimo, vorrebbe farci rivisitare il dono battesimale. Questo perché? Perché la Quaresima in effetti era ed è tuttora per tanti adulti, noi diciamo nei paesi di missione, ma ormai anche da noi, il tempo in cui ci si prepara al battesimo, che viene poi celebrato nella grande veglia pasquale, da noi per esempio il gruppo di adulti che si preparano in genere vengono battezzati in Duomo dal Vescovo proprio la notte di Pasqua. Però ecco, anche chi non deve prepararsi al battesimo è chiamato un pochettino a riprenderlo in mano, a rivisitarlo, anche perché, abbiamo detto forse ancora, noi abbiamo avuto la grazia di essere battezzati in gran parte, tutti forse al pena nati, una volta addirittura si battezzava lo stesso giorno o il giorno dopo. E questa è una grazia, essere entrati nella grazia di Dio, nella vita della Chiesa da subito. E però potrebbe essere anche una iattura, perché? Perché uno ha ricevuto un dono quando non era consapevole, rischia poi di non rendersi conto di questo dono ricevuto. Se non gli guarda dentro a questo scatolone dove c'è dentro il regalo che ti è stato fatto quando eri piccolissimo, rischi di non sapere neanche che dono ti è stato fatto. E allora ecco, il cammino della Quaresima viene a dirci oh, andiamo un po' a vedere sto benedetto battesimo. È stato un regalo o è stato un peso? È un qualcosa che possiamo buttare sul camion delle immondizie? o sarà meglio tenercelo caro perché segna la nostra vita di cristiani, eccetera, eccetera? E Don Riccardo, il Papa, tra l'altro, Francesco, in una delle sue incontri del mercoledì con la gente, raccomandava andate a vedere, chiedete ai vostri parroci che vi dicano il giorno, la data del vostro battesimo. Potrebbe essere una cosa da poco, ma magari dietro alla data ci sta forse anche qualcosa effettivamente di più importante. Ma certo, la data, effettivamente noi conserviamo memoria delle date più importanti della nostra vita, no? Il compleanno, giustamente, festeggiamo quando siamo nati, ma credo anche i vari anniversari dei momenti importanti in cui magari la nostra vita ha preso una direzione. Penso agli anniversari di matrimonio, per noi preti l'anniversario di ordinazione. Ma penso anche a come tante volte conserviamo la memoria anche di date tristi, l'anniversario di morte dei nostri cari, che magari ricordiamo con particolare, così, anche carità e particolare preghiera anche nel giorno dell'anniversario in cui magari partecipiamo all'eucarestia, proprio al loro suffragio. Ecco, penso che al di là di tutto sia bello, sia importante avere consapevolezza di questa data non per fare una festa in più, credo che non abbiamo bisogno di feste in più nel nostro modo di vivere, però perché ci rendiamo conto che lì è avvenuto qualche cosa di grande. Hai ragione, è vero, noi abbiamo ricevuto il battesimo praticamente da piccoli, quando non eravamo consapevoli di quello che questo voleva dire, significava, però credo che questo ci fa capire ancora di più come il battesimo sia un dono che uno riceve senza meritarlo, insomma. Non ti viene chiesta neanche quella consapevolezza di capire che cosa sia, magari anche di scegliere consapevolmente, perché chi chiede per te il battesimo dovrebbe essere perlomeno talmente convinto della bellezza di questo gesto che desidera condividerlo con la persona più cara che ha lì, che in quel momento è quel figlio o quella figlia che porta il fonte battesimale. Ecco, il battesimo viene celebrato con segni, come sono tutti i sacramenti che rendono più evidente che cosa sta succedendo. L'acqua che purifica è da vita, la candela battesimale accesa al cielo pasquale, la veste bianca segno di questa nuova dignità e della bellezza della nostra vita in Cristo, l'olio con cui si unge appunto per dare forza e per consacrare, eccetera. Una volta Don Riccardo, il prete finita il battesimo, metteva via candela, metteva via veste, metteva via olio, eccetera e così via. Adesso invece, penso che sia un po' abitudine ormai generalizzata, viene fatto omaggio, diremmo così, sia di una veste bianca, un piccolo segno, sia anche della candela battesimale. Ecco, il fatto che vengano regalati a chi viene batteggiato, ai suoi familiari, dovrebbe forse anche far intendere che questi segni, nel corso dei tempi, dovrebbero diventare anche piccoli riferimenti, un po' memorie, diciamo, di quello che è accaduto. Allora la domanda è, ma dove vanno a finire questi bei regali che noi facciamo alle famiglie in occasione del battesimo. E questo bisognerebbe chiedere alle famiglie. È vero che magari non c'è poi l'abitudine e potrebbe essere interessante, anche nei passi successivi, anche che i bambini fanno, penso alla prima confessione, piuttosto che alla comunione e alla cresima, non dico portare la veste bianca, che sarebbe un po' ridicolo, perché chiaramente è una vestina a misura di bambino, anche se effettivamente se ci pensiamo quella veste bianca della prima comunione altro non è che la stessa veste che ti è stata consegnata il battesimo. Quella veste bianca che i preti o comunque anche i ministri che danno una mano sull'altare indossano quando fanno il loro servizio è ancora immagine di quell'alba, di quel vestito candido che ti è stato consegnato nel momento del battesimo. Ecco, credo potrebbe essere significativo che magari anche nei momenti importanti dove la tua vita di grazia riceve i sacramenti dell'iniziazione quella candela del battesimo potrebbe avere una dignità a livello celebrativo ma comunque dovrebbe essere qualche cosa di importante che uno conserva in casa, no? Così come in chiesa si conserva acceso per tutto il tempo di Pasqua e poi si accende nelle celebrazioni importanti come possono essere i battesimi piuttosto che i funerali il cero pasquale, segno della risurrezione di Cristo credo che quella candela accesa al cero pasquale nella celebrazione del tuo battesimo diventa un po' il tuo cero pasquale personale e quando lo vedi quando magari lo riprendi in mano dovrebbe farti pensare a quella presenza viva di Cristo nella tua esistenza. E mi verrebbe anche da pensare che quando c'è il compleanno e si accendono le candeline sulla torta invitando amici, parenti, eccetera per carità non in quel contesto ma magari un'ora prima o due ore dopo si potrebbe anche ricordare al pupo che c'è anche il segno di una candela appunto che fa riferimento al suo battesimo e così via. Sono piccoli gesti ma a volte la memoria educativa direi passa anche attraverso queste piccole cosette. Don Riccardo, tra l'altro nelle nostre chiese c'è il luogo memoriale del battesimo e nelle chiese c'è l'immagine il crocefisso ovviamente l'immagine della Madonna l'eucarestia chiaramente il cuore non ci piove il tabernacolo e poi a memoria anche dei sacramenti c'è la penitenzieria il confessionale e poi c'è il battistero. Tra l'altro quando si chiede ma dov'è il battistero in chiesa sembra un pochettino nascosto qualcuno ti dice è giù in fondo magari perché siamo avanti nella chiesa si dice è giù in fondo mi pare però che non si possa e non si debba dire che è giù in fondo quasi che l'architetto siccome non ha trovato il posto ideale per mettere questo battistero l'abbia cacciato giù in un angolino mi pare che la faccenda sia un po' diversa. Certo, nelle grandi chiese penso anche nelle cattedrali generalmente il battistero è proprio un tempietto una chiesetta esterna alla chiesa magari di fronte all'ingresso di fronte alla facciata principale e il segno era quello di dire ecco, prima di entrare in chiesa che è il luogo dove la fede la vivi tu in maniera personale ricevi il dono del battesimo quindi il battesimo ti abilita all'ingresso poi nella chiesa quindi anche simbolicamente questa cosa veniva detto con i due edifici messi uno di fronte all'altro ovviamente penso poi anche per la concretezza delle cose magari anche un po' la povertà dei mezzi delle nostre parrocchie il battistero veniva collocato nei pressi della porta d'ingresso della chiesa proprio con lo stesso significato ecco, sei entrato in chiesa ma guarda che prima di arrivare all'altare c'è bisogno del battesimo che ti spalanca proprio un po' tutte le porte della grazia quando parlo con i bambini dico ecco il battesimo è proprio un po' la porta d'ingresso alla grande stanza della grazia dei sacramenti quando poi tu sei all'interno di questo di questo corridoio si aprono un po' tutte le altre porte dei sacramenti se non entri da quella del battesimo ovviamente ti restano precluse anche le altre porte certo che pensando all'ingresso della chiesa c'è il battistero l'altare della celebrazione dell'eucarestia in genere è su molto in alto non proprio in mezzo ma in modo da dare l'idea che raccoglie la comunità potremmo idealmente anche pensare che quei metri che ci sono tra il battistero e l'altare potrebbero significare anche il percorso di crescita nella fede allora chiedere un pochettino io a volte lo faccio ai genitori gli dico ma questi vostri figli intendete lasciarli giù al battistero intendete fargli fare un po' di passi li volete portare fino all'altare dell'eucarestia perché facciano comunione piena col Signore cioè quei 20-30 metri potrebbero essere abbastanza significativi a questo proposito giusto significativi e di un cammino che uno fa per essere sempre più consapevole appunto di quei doni che ti sono dati nel momento in cui ricevi il battesimo credo che siano anche un po' significativi anche di quel cammino che è la tua vita dal battesimo se vogliamo verso l'altare della celebrazione del Signore che è appunto diciamo che ti richiama che ti accompagna e che ti attira di domenica in domenica in ogni settimana ma che diventa già quasi anche immagine di quel banchetto eterno che ti aspetta comunque alla fine della tua vita quindi il cammino anche che c'è dentro mi piace vederlo anche un po' come simbolicamente quello che è il cammino della tua vita anche tu sei chiamato a partire da quel battistero ad attingere forza a quell'altare dove trovi la presenza del Signore a quella parola che accanto all'altare viene proclamata ma anche immagine di quel banchetto eterno a cui sei chiamato a partecipare Quaresima 2017 percorso battesimale tornare alla fonte ecco dentro queste domeniche praticamente passano attraverso alcuni motivi che diventano anche richiamo ai segni battesimali questa rivisitazione di questo dono di grazia che ci ha introdotto nella vita cristiana Sì, hai detto bene all'inizio in questo anno che in maniera un po' brutta è chiamato anno A rispetto all'anno B e all'anno C sappiamo che è un ciclo triennale quello delle letture festive attinge a piene mani a quella che è la tradizione quella che era la tradizione della Chiesa e quindi siccome i catecumeni che si erano preparati pensiamo soprattutto agli adulti siamo nei primi secoli dell'era cristiana dove non c'era ancora la pratica del battesimo dei bambini piccoli allora dopo il cammino di catecumenato ecco che l'ultima quaresima che ti separava dalla celebrazione del battesimo della cresima dell'eucarestia perché quando un adulto diventa cristiano riceve nella stessa celebrazione i tre sacramenti dell'iniziazione diventava proprio il cammino se vogliamo più immediato anche di preparazione a quello che era il tuo battesimo e quindi i Vangeli della domenica i catecumeni potevano rimanere in chiesa fino alla liturgia della parola e poi prima della liturgia eucaristica venivano non dico allontanati ma uscivano perché non avevano ancora partecipato non avevano ancora ricevuto il battesimo quindi erano invitati ad uscire però quella liturgia della parola che li preparava alla celebrazione del loro battesimo diventava già una grande catechesi su quello che la vita di grazia avrebbe fatto ecco interessante che già all'epoca però nonostante la quaresima avesse questa connotazione catechetica sul battesimo c'era poi anche il tempo pasquale che potremmo prendere con maggior forza noi dove c'era il cammino veniva detto della mistagogia quindi ancora questi neobattezzati venivano accompagnati dalla comunità di quelli che avevano già un po' un'esperienza di fede nella conoscenza nell'approfondimento di quei doni che avevano ricevuto quasi a dire che appunto non una preparazione che ti rende degno a ricevere i sacramenti l'hai ricevuto e poi sei a posto no l'hai ricevuto e poi c'è un cammino di consapevolezza abbiamo celebrato la prima domenica il Vangelo delle tentazioni di Gesù in questa domenica la trasfigurazione bellissimo quella veste bianchissima quella parentesi che c'è in Marco nessun lavandaio riuscirebbe a fare una veste così splendida eccetera e poi entriamo in quelle tre domeniche in cui leggiamo il Vangelo di Giovanni quest'anno pur essendo nell'anno in cui di per sé si legge il Vangelo di Matteo con l'acqua della Samaritana la luce del cieco e la vita nuova alla resurrezione di Lazzaro mi pare che sia il percorso che evidenzia non solo i segni ma la concretezza e la realtà del battesimo certo grandiosi questi Vangeli anche corposi dal punto di vista della pagina che viene letta dove davvero con la Samaritana possiamo pensare anche a quel desiderio di autenticità che c'è nella vita di ciascuno che magari anche noi come la Samaritana cerchiamo di colmare con tante acque che alla fine si rivelano degli acquitrini più che delle acque e quindi l'incontro del Signore come colui che appunto dà quell'acqua viva che riempie la fame di senso della nostra esistenza giustamente il cieco che ritrova la luce immagina anche questo di quello che può avvenire nella nostra vita quando siamo lontani dal Signore e quello che avviene quando ci lasciamo riconciliare e raggiungere dalla misericordia di Dio che Gesù ci regala anche magari attraverso il sacramento della penitenza e poi quell'idea di vita nuova simboleggiata dalla resurrezione di Lazzaro che è già un rimando se vuoi a quella che sarà la resurrezione alla fine dei tempi ma è anche un dire quello che un credente è chiamato a fare a testimoniare quella vita nuova di chi si sente raggiunto dalla misericordia dell'amore del Padre il sacramento del battesimo segno evidente sacramentale della benedizione di Dio sulla nostra vita segno evidente della fiducia e dell'affidamento nella Chiesa la Chiesa si fida ci consegna il regalo di Dio per il nostro cammino e il fatto anche Don Riccardo appunto di questo tu hai chiamato itinerario iniziazione cristiana che c'è un inizio che va a compiersi nell'Eucarestia e tutte le domeniche siamo chiamati a celebrarla perché il culmine è la fonte di tutto se non funziona quello rischiamo di far funzionare proprio anche la nostra fede e la nostra vita cristiana e il sacramento della Cresima che potrebbe essere un po' cammin facendo nella vita il rispondere ormai consapevoli a questa benedizione che Dio ha messo appunto dentro di noi e sulla nostra vita ecco l'iniziazione cristiana è fatta di sacramenti che sono strettamente legati tra di loro certo è saggia la Chiesa che quando ha comunque la Chiesa Latina quando ha cominciato la pratica del battesimo dei bambini a differenza della Chiesa Ortodossa non ha lasciato Battesimo la Cresima e poi anche i bambini un piccolo goccio del vino eucaristico viene appoggiato sulla bocca hanno già fatto anche la prima comunione la Chiesa Latina invece ha detto no il battesimo all'inizio poi accompagniamo anche la crescita della vita con alcune tappe alcuni momenti di modo che uno si affaccia alla vita adulta certo terza media seconda media prima media non sei ancora adulto però sicuramente più consapevole di quando avevi pochi mesi ecco lasciamo che con la crescita nella vita fisica ci sia anche una crescita dal punto di vista spirituale questo credo sia l'impegno grande delle nostre comunità di non lasciare soli questi ragazzi ma accompagnarli nella conoscenza e nell'esperienza del mistero bene ci auguriamo quindi un buon cammino quaresimale un po' questo tornare alla fonte del nostro battesimo lasciarci abbeverare di quest'acqua fresca che è il Signore della sua luce che illumina il nostro cammino per trovarci appunto nella vita nuova pasquale e di fatti la quaresima va a finire va a chiudersi o a compiersi nella grande liturgia della resurrezione di Cristo in cui siamo anche noi coinvolti appunto mediante il battesimo grazie Don Riccardo della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica